40 extra comunitari, alcuni dei quali richiedenti asilo, venivano sfruttati a lavorare come braccianti nei terreni agricoli marchigiani con turni massacranti anche di 12 ore, ospitati in alloggi fatiscenti e stipendiati con paghe che andavano dai 5 ai 6,5 euro all'ora. Questo quanto emerso da un'operazione di contrasto al caporalato condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pesaro Urbino in collaborazione con i colleghi di Ancona e Macerata che hanno portato all'arresto ai domiciliari di tre cittadini pakistani residenti a Cupra Montana e Cingoli. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Ancona trae origine da un'attività investigativa avviata e condotta dal giugno 2021 dai carabinieri del NIL di Pesaro Urbino attivati da una pattuglia dei carabinieri di Mondavio che durante un controllo alla circolazione stradale segnalavano un furgone con a bordo otto persone che riferivano di essersi recati al lavoro nei campi della zona come braccianti agricoli. Le indagini hanno così scoperto la presenza di un sodalizio composto da soggetti pakistani finalizzata a monopolizzare il mercato del lavoro nel settore agricolo nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino mediante lo sfruttamento di mano d'opera reclutata a basso costo anche presso i centri d'accoglienza. Venivano infatti reclutati immigrati di Pakistan e Bangladesh per lavorare verso terzi in condizioni di sfruttamento. Persone in cerca di lavoro, in condizioni di indigenza, vulnerabilità e estremo bisogno di guadagnare per la sopravvivenza propria e dei loro familiari nella nazione di appartenenza oppure per avere un contratto di lavoro e tentare il rinnovo del permesso di soggiorno. L'impiego fornito dal sodalizio costituiva per le vittime di sfruttamento l'unica occasione di lavoro e pertanto l'unica fonte di sostentamento, tanto da costringerle ad adattarsi persino alle pessime condizioni alloggiative offerte, apparse assolutamente inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario. A Cupra Montana è stata individuata la sede operativa della banda e a Cingoli gli alloggi di fortuna dove veniva ospitata la mano d'opera sfruttata. I braccianti erano infatti alloggiati in degradati casolari in stato d'abbandono e per avere quel giaciglio di fortuna erano costretti a corrispondere un canone di locazione di 150 euro mensili. Dalle indagini è emerso come la busta paga elaborata per i dipendenti appariva formalmente corretta e in linea ai contratti nazionali di lavoro applicati, ma tutti i braccianti, oltre a svolgere un orario di lavoro superiore a quello denunciato sugli stessi prospetti paga, erano poi costretti a restituire parte della retribuzione in base agli accordi presi al momento dell'ingaggio, anche attraverso la minaccia di perdere il lavoro. Ora le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.